Ciao ragazze, mi vedete truccata uguale, vi siete uguale al video quello degli acquisti che ho fatto ultimamente perché appunto ho un po' di tempo quindi sto girando un po' di video di fila e questo sarà il video dei top e dei flop del mese di gennaio sempre in collaborazione con Sara, mi SaraS93, ciao Sara ti saluto e come al solito tutte le informazioni del suo canale e del suo video le troverete sotto in info box e devo dirvi che in questo periodo non ho moltissimi prodotti da farvi vedere perché non ho avuto modo di fare shopping di cosmetici, magari provare qualcosa di nuovo e non mi sono neanche truccata questo granché appunto avendo la sessione di esami e praticamente facendo la suona di clausura in casa. Quindi ho più prodotti per il corpo e la cura dei capelli da farvi vedere più che cosmetici. Comunque iniziamo, il primo prodotto tra i top è questo gel mousse purificante delicato della Garnier e sono 200 ml di prodotto, è molto comodo perché ha l'erogatore con la pompezza, quindi come se fosse un semplice sapone e mi piace perché va a levare i residui del trucco e va anche a purificare bene la pelle, infatti dopo comunque sento la pelle che ha bisogno di essere nutrita, quindi ha bisogno di una crema e la vedo più pulita. Io lo utilizzo specialmente quando mi trucco, quindi proprio per togliere tutti i residui del trucco e lo utilizzo in combinazione ad un simile Clarisonic che ho comprato ancora diversi mesi fa, difatti fra un po' vi farò anche un video recensione di quello perché è molto valido ed economico rispetto al Clarisonic. Comunque questa qui la trovate al supermercato per 2-3 euro, comunque ci sono diverse offerte tante volte sia ad acqua sapone sia nei supermercati e quindi questo qua secondo me è un prodotto top. Altro prodotto top per diciamo per il corpo ecco, sì sono un po' imbarazzata a farvelo vedere perché insomma è questo deodorante qui della Neutromed e da un deodorante stra, infatti vedete che ha... come si chiamano queste cose qua che spruzzi, spruzzettini? va beh... e mi piace tantissimo il profumo e anche perché trovo che mi duri dalla mattina alla sera e l'avevo pagato 2 euro e qualcosa in 1,50 euro, adesso non mi ricordo precisamente, da acqua e sapone ed è davvero ottimo e c'è scritto che dura 48 ore, 48 ore no non dura però le sue buone 24 ore di una giornata le fa e sono 150 ml, bla 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 e mi ha colpito perché c'è scritto 0% alcol. Altro prodotto promosso per il corpo è questa crema qui, della crema rouge, non lo so non l'ho mai sentita nominare sinceramente e non so neanche dove l'abbia presa mia madre perché è mia mamma che compra queste cose e io utilizzo perché vedo là comunque è una crema burro di karité e olio de jojoba poi lasciamo perdere l'inci perché appunto non sono esperta e non ve lo so dire comunque mi piace molto perché il profumo è molto leggero e va a nutrire comunque... io lo metto sulle gambe quindi se abbiamole mi sto un po' impaperando perché è da tanto che non giro video quindi scusatemi comunque se avete gambe secche va a nutrirle molto bene in profondità e penso che l'abbia pagato 2,99 euro forse è un prezzo lancio quindi una cosa nuova, non lo so se l'avete trovata anche voi bene, ditemi dove l'avete comprata perché anche mia mamma non si ricorda più, non importa comunque è promosso poi... allora... due cose per le unghie allora precisiamo che io non sono estetissima quello che è quindi io che ogni tanto mi faccio il gel dopo quando lo vado a togliere non sto lì a toglierlo perfettamente e tutto che rimanga con uno strato di gel tante volte mi rompo e sono io che lo stacco anche con i denti perché quando mi gira così mi gira così e quindi mi è girato così io mi ero fatta il gel per diciamo capodanno l'ho tolto completamente però non mi fanno male le unghie niente di che e per comunque rinforzarle si dice così comunque ho preso non l'ho preso ce l'avevo già ma ho ripreso ad utilizzarlo ed è questo smalto della Essence l'XXL Nail Thickner quindi un riforzante e devo dire che mi sono trovata davvero bene me le ha rinforzate e me le ha anche rese più dure sembra strano perché da uno smalto insomma non ci aspetta non mi aspettavo proprio che me le facesse più dure io ce le ho sempre avute super molle proprio da piegarle invece questo me le ha davvero indurite e poi gli smalti Essence non è che costano nemmeno granché e mi è piaciuto molto l'unica cosa è che bisogna metterlo per 2-3 giorni dopo toglierlo perché appunto si rovina ma è solamente per indurirle e per rafforzarle appunto e rinforzarle come si dice? dovrò andare a controllare comunque lo promuovo perché mi è piaciuto davvero tanto e promuovo anche questo smaltino C'è una glaze non lo promuovo per il colore perché ho trovato il colore del secolo che mi piace tantissimo no anche perché il colore non è neanche questo granché dovrebbe essere il 251 Simpli Stunning comunque io lo promuovo perché ha una formulazione che dura parecchio per parecchio dico 5 giorni senza comunque avere sempre le mani sull'acqua o a fare certi mestieri ma trovo che duri rispetto ad altri che ho Kiko per esempio che sono pessimi questo dura 5 giorni buono senza sbeccarsi dopo si sbecca un attimo e so che questi china glaze costano abbastanza però io l'ho trovato sul negozio e l'ho pagato su 1,50 euro era super scontato e l'avevo ancora preso quest'estate quando questo colore in estate proprio ci sta benissimo perché con la pelle un po' bronzata e questo colore che è un rosa però tendente al dorato una specie di nude sì però dorato in estate fa dei riflessi stupendi e mi piaceva molto appunto metterlo con la pelle abbronzata però ho voluto riusarlo così tanto per avere un nude o qualcosa sulle unghie e mi è piaciuta la durata quindi questo è un prodotto top altro top che inserisco in questa classifica è questo mini cabuchino proprio carino piccolo piccolo ed è dell'HM sì c'è anche il marchio ma è inutile farvelo vedere non importa se è sporco scusatemi perdonatemi ma non ho avuto tempo di lavarlo infatti finito il video lo andrò a lavare perché è proprio sporchissimo lo promuovo perché ho trovato una valida alternativa ma proprio valida al buffing brush della Real Techniques che vediamo ce l'ho qui eccolo qua ho trovato una valida alternativa questo è il mio pennello in assoluto preferito proprio il pennello del secolo è buonissimo sia da mettere da stendere il fondotinta liquido sia da stendere il fondotinta in polvere infatti io utilizzo quello della Neve Cosmetics Light Coverage e questo è in assoluto il pennello migliore ha le setole molto fitte quindi il prodotto non è che si perda si risperda dentro le setole ma proprio rimane in superficie e ti permette una stesura molto 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 naturale e anche molto veloce questo idem ha le setole super spesse quindi il prodotto si ferma solamente nello strato superiore qui delle setole e in pratica fa lo stesso lavoro di questo qui e mi piace molto perché comunque è molto comodo pratico perché è piccolo ma anche perché il prezzo è davvero evisorio sui 3 euro o 4 euro mentre ne avevo visto un altro sempre della linea nuova della H&M lungo diciamo come questo grande così però fatto tagliato e molto spesso però quello veniva sui 7 euro 6,95 comunque arrotondato 7 e aveva setole molto in numero in numero minore rispetto a questo quindi questo qua l'avevo preso principalmente come pennellino da portarsi dietro in borsetta magari con una cipria traslucida un attimo per eliminare l'effetto lucido durante la giornata però appunto avendo avuto questo periodo di esami e rimanendo a casa mi portavo dietro niente perché appunto ero in casa e allora ho trovato questa qua come alternativa per il fondotinta al posto di questo appunto io ve lo consiglio perché davvero è buonissimo un altro prodotto che promuovo è questo rossetto qui della MAC il pink plaid è quello che indosso in questo momento come nell'altro video precedente e davvero mi piace tantissimo ho già spiegato perché nell'altro video e davvero vale i soldi che costa anche se io l'ho pagato di meno non per lo sconto ma perché l'ho trovato su un gruppo e davvero mi è piaciuto tantissimo passiamo invece ai prodotti flop di questo mese e inserisco due prodotti allora il primo è questo shampoo della Garnier l'ultra dolce al cocao e all'olio di cocco allora il profumo è ottimo vedete l'ho anche quasi finito quindi comunque non è che mi ha fatto proprio schifo schifo da non utilizzarlo anzi mi ha colpito il fatto che sia senza parabeni quindi non è già appunto a suo favore e tra l'altro l'avevo visto consigliato da casita fa il suo dovere perché comunque lava bene i capelli e li lascia morbidi e li lascia anche più lisci appunto essendo per capelli lisci o da lisciare come ci ho scritto qui però il problema non è tanto di questo shampoo ma è dei miei capelli perché io ho i capelli comunque molto fini e lisci che però tendono ad ingrassarsi a sporcarsi subito quindi già il giorno dopo però questo shampoo qui essendo per capelli lisci o comunque da lisciare secondo me ha dentro qualcosa che appesantisce i miei capelli e li fa sembrare sporchi nel giro della giornata ecco e praticamente anche adesso ho i capelli super sporchi che mi erano avanti l'altro giorno l'altro ieri di solito non sono così sporchi però questo qua mi fa aumentare i capelli sporchi quindi non è adatto a me ne proverò altre di questa linea però magari per capelli grassi che forse è più adatto al mio tipo di capelli quindi questo solo per chi ha i capelli non grassi come i miei è un ottimo prodotto io però avendo questo problema mi ritrovo a bocciarlo quindi assolutamente bocciato altro prodotto che boccia invece che ho sentito molte review ho visto molte review questo youtube è quasi promosso da tutte però insomma a me non è piaciuto molto è questo mascara della Essence il Go Wild ed è questo qui ve lo apro ormai ho già aperto con le palline quindi come quello della Occhioni della Neve Cosmetics perchè lo boccio? lo boccio perchè non mi da quell'effetto di volume che piace a me nei mascara trovo che li allunghi sì però non mi piace la consistenza perchè l'ho trovato molto pastoso quindi proprio quando lo apri adesso non so se si può vedere perchè l'ho utilizzato da un po' però l'ho trovato molto pastoso ma più sul secco e quindi l'effetto sulle ciglia non mi piace più di tanto ma anche non mi da quel volume che voglio io quindi se cercate un mascara che dia volume questo qua non lo da anche se si è scritto volume volume mascara a me non piace e anche bisogna passarlo più volte anche 3-4 volte perchè abbia quell'effetto bello nero perchè secondo me non è quel nero che deve avere un mascara una cosa positiva ce l'ha questo mascara e ovviamente l'utilizzerò fino a quando non finisce sia il fatto che appunto è fatto come un dentifricio quindi anche se lo stiamo per finire si può schiacciare le bordini per trovare l'ultimo domotorio del prodotto ma mi piace devo dire che è una cosa positiva il fatto che non lascia le ciglia incrostate quindi belle dure spesse che è un effetto orribile secondo me quindi anche durante la giornata se può ripassarlo più volte perchè appunto le ciglia sono comunque morbide e non va a fare sempre grossa più grossa eccetera proprio trovo comunque trovo che lascia le ciglia abbastanza morbide e non è neanche difficile da rimuovere quindi per questo magari lo posso promuovere però sicuramente non andrei a ricomprare una prossima volta e niente ragazze questo era il video risaluto Sara e saluto anche voi vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao